I vincitori non sono mai così interessanti, le loro parabole si assomigliano tutte, hanno sempre a che fare con l'uso dei superlatini, cori di adulatori, narcisismi e prevedibili. La vita è certamente più difficile per chi non salirà mai su un podio, ma non per questo rinuncerà a viverla. E a ben vedere è proprio negli affanni del quotidiano di un'esistenza normale, che si misura il senso più autentico del nostro cammino comune. Un uomo che cade offre la possibilità di tendergli una mano, colui che cerca una strada la possibilità di aiutarlo a trovare. E così noi, tutti noi, a seconda delle circostanze, siamo colui che cade e la mano che lo afferra. Quello che cerca una direzione è il dito che gliela imbrica. Nessuno basta a se stesso. Scendere dal podio, spostarsi dal centro della scena, è il primo antidoto contro gli orrori della storia. Ogni premio, riconoscimento individuale non ha senso se non è frutto di una condivisione.